E' un peccato di avere questa domanda, ma è un fatto che il campo sarà peggio lunedì, perché piove da tre giorni e piove tanto, ma speriamo di vedere alle tre oggi due squadre che giocano aperta, ma vedremo una qualità di una squadra ad adattarsi anche al campo, a scuola avversaria, al vento, non lo so, e vedremo lunedì, ma sappiamo un po' che il